Oh, guarda un po' qui. 10.30, rapina in corso, passo. Vediamo, funzionerà? Deve, se no è finita. Non per farti fretta, ma... Sbrigati, non c'è più tempo. Vediamo di cosa sei fatto. Nuovi casi di persone morsicate da queste strane creature. Si tratta di esemplari fuggiti dalle Oscorp Towers. L'infezione è stata classificata come pericolosa e le autorità sanitarie collaborano con la polizia nella lotta al virus. I primi contagiati hanno morso altre persone, diffondendo l'infezione a un ritmo allarmante. Si consiglia ai cittadini di stare in casa. Non è ancora stata confermata la messa in quarantena dell'intera area che isolerebbe del tutto Manhattan dai quartieri e dai suborghi circostanti. Devo contattare Gwen. Gwen, ci sei? Ciao, Pete. Stai bene? Sono stata meglio, di sicuro. L'antidoto è pronto. Manca poco. Potete resistere ancora un po'. Io sì, ma per alcuni l'infezione progredisce in fretta. Perché dipendiamo da Connors? Possiamo fidarci? Sta... sta facendo del suo meglio. Gwen, speriamo si sbrighi. Il dottor Strom sta male, lui... Fermatelo! Ci vuole dell'acqua! Fermatelo! Indietro! Deve respirare! No! Non può! Aiuto! Oddio! Ha le convulsioni! Sta avendo un attacco! No! Sta... Oh no! Dottor Strom! Lo lascia andare! I libri individuati! Attacco! I libri individuati! Attacco! Ah! Lasciami andare, rottami! No! Lascialo! Gli fai male! Mettilo giù! Dottor Strom! No! Che sta succedendo? Gwen! I robot hanno preso il dottor Strom! Stanno cercando di ucciderlo! Sono stati programmati per eliminare chiunque abbia alte percentuali di DNA. a ibrido! Pete, presto! Non so per quanto possiamo resistere! Sto arrivando, Gwen! Promesso! Ti porterò fuori di lì! Devo andare! Ma... Sbrigati! Se la caverà, Peter! Gwen è forte! Ce la farà! Ok! Ce l'abbiamo! È fatta? Sì! È... Questo! Grazie! È che me l'aspettavo più... Più futuristico, ecco! Non è testato, ovviamente! Ma ho simulato l'effetto al computer! Dovrebbe funzionare! Va bene! Tanto non c'è tempo per i test! Mi fido di te! Grazie, Peter! Grazie a te, Kurt! Festeggeremo dopo! Ora vado alla Oscorp! Inizia una produzione di massa! Ci servirà! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io parlo con Aquila. Spider-Man. Whitney, come stai? Ho un'esclusiva per te. Ehm, non dovrebbe essere il contrario? Magari la prossima volta. Volevo darti una notizia. Gira voce che un procuratore distrettuale sia stato rapito e ora si trovi prigioniero nelle foglie. Capisco. Robot oppure ibridi? Abbiamo un possibile 10.22. Aggressione in corso. Passo. 10.30, rapine in corso. Passo. Ok, ci siamo. Per la mia col... lezione. Dovrei fare l'abbonamento. 10.10, sparatore davanti a un banco dei pegni. Chiedo rinforzi, passo. In mezzo alla strada? C'è il rischio di danni collaterali. Presto! C'è il rischio di danni collaterali. 10.22, attacco in corso. Passo. Non esistono crimini minori. 10.10, sparatore davanti a un banco dei pegni. Chiedo rinforzi, passo. Guardie, ladri, spari in strada. Ci penso io. Non ci arrenderemo mai. Gettate le armi, ora! Finirai sottoterra! Potrebbe trattarsi di una dura prova per il vostro... Però... ti si sta distendendo? Alzate la mano! Adesso ti stendo! Adesso ti stendo! Raccogli quel che semini! Non ci sono i benvenuti qui! Sei troppo lento! È proprio là! Spara! Dove hai imparato a sparare? Sto arrivando! Ora basta! Basta! Più, più, più! Kablam! Non è ancora morto! Hai tanto la sicura! Sparagli! Non voglio che mi si avvicini! Fai dietro fronte e sparisci! Ora ti sistemo io! non so ne faccio io! Vai così! Aggressione in corso in un vicolo, passo Conosco le loro intenzioni ma loro non sanno le mie Lo prendo Oh, guarda un po' qui Uno scatto e via, vero? Vediamo come vola avvolto nel bozzolo Esame completato Da qui non si vede bene Non sarà lontano Ti piacciono le ragnatele? No! 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 un ragno. Uso le ragnatele. Ne hai abbastanza? Lassiamo via! Fantastico! Ecco che va! Aggressione in corso in un vicolo, passo. Chi dice che la sta morta? 10.30, rapina in corso, passo. Conosco le loro intenzioni, ma loro non sanno le mie. Sapere, potere. 10.30, rapina in corso, passo. Ora gli rovino la festa. Il prezzo è aumentato, ma ne vale la pena. Il procuratore. Questi vagoni mi sbarrano la strada. Autista? Autista! Bene. Ho capito, toccherà a me guidare. Sei... Tu è molto pericolo. Lo so. Ti può arrivare addosso un treno. O un pugno, magari. Lo so. Di qua! Che dici? Ti arrendi? Cazzo! 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 Oh! Buongiorno! Fatti sotto! Cazzo! Oh! Cazzo! Ora basta! Ah, era ora. Così andrà bene. Ehi, dovrebbero assumermi. Ehi, dovrebbero assumere. Ehi, dovrebbero assumere. Ehi, dovrebbero assumere. Ehi, dovrebbero assumere. Ehi, adesso basta. Vuoi un assaggio? Ragnatele qui, ragnatele là. Adesso ti stendo. Altri esemplari? La vedo grigia. Chissà come stanno i rapitori. Ragnatele qui, ragnatele qui, ragnatele qui, ragnatele qui. Rendo il favore. Al finale... Sì! Ah, che puzza di calzino, ma... Forse quei generatori stanno bruciando. Goditi la solitudine. Vuoi un po' della tua medicina? Un'altra note? Che male, vero? 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 Vi lascio solo i soletti, picciolzini. Perché non ci riprovi? No, no, no! Accogli quel che semini. Te la farò pagare. Questo farà male! Non ci riprovi? Non ci riprovi? No, no! Non ci riprovi? 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 Sì, sì, sì. Anche se qui la ventilazione serve, non penso di poter passare senza fermare quella cosa. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 No, no, no. Ecco, ora vediamo dov'è il nido della bestia. Ciao, che ne dici di liberare questo signore e andartene via in pace? Ah, non lo farai. Guarda che non ho dei timpani di riserva. 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 Ah, non ho dei timpani di riserva. Ah, è il primo che arriva. Mi tapperò le... Orecchie con le ragnatele. Che male! Adesso basta! Guarda che... Guarda che! Guarda! Guarda che... No, no, no. No, no, no. Ti rendo il favore. Avanti. Ehi, perché mi sono? Ehi, perché mi sono? Come si sente? Ce la fa a uscire di qui? Io non mi sono candidato per questo. Capisco, ma presto la porterò fuori di qui. Grazie, Spider-Man. Non penso di farcela da solo. Si aggrappi. Si rilassi e stia calmo. Tra poco si sentirà un po' confuso.